Come si fa a organizzare una campagna elettorale? Ieri abbiamo fatto una riunione qui a Alcatraz con un gruppo di amici di Beppe Grillo, di Foligno e di Spoleto e ci siamo messi a discutere su che cosa sia possibile fare quando c'è poco tempo, non ci sono soldi, ci sono un numero relativamente basso di militanti e la situazione è complicata. E' venuta fuori un'idea secondo me geniale che è partita da una decisione che era stata presa dagli amici di Spoleto e di fare un banchetto al centro della città. E' un'idea banale, se vogliamo, ma ci sono tutta una serie di operazioni che si possono fare per trasformarla in qualcosa che funzioni veramente. Innanzitutto c'è da considerare che gli altri strumenti pubblicitari, classici manifesti, pubblicità radio, sui giornali, volantinaggi hanno un costo alto e non è possibile pensare di fare un intervento che raggiunga tutta la popolazione. Si tratta di fare qualche cosa che dia una reale visibilità. Un banchetto nel centro di una piccola cittadina ha questa caratteristica perché possiamo immaginare che almeno il 50% degli abitanti di Spoleto nel giro di 30 giorni passi una volta per il centro della città. Ma ovviamente se ci limitiamo a fare il volantinaggio in questo banchetto e mettere due manifesti e uno con il megafono che urla tutto il giorno non abbiamo nessun risultato. L'idea è stata invece quella di trasformare questo banchetto in un'entità di micro eventi diversi, proposte diverse. Allora, la prima idea, secondo me è geniale, non l'ho avuta io, è che con un computer e una chiavetta collegata wireless alla rete sia possibile offrire un servizio di telefonate gratis in tutto il mondo via Skype. Allora, nel programma delle liste civiche di Beppe Grillo c'è quest'idea di dare la connessione gratuitamente a tutti i cittadini ad alta velocità. Ora, il fatto di far vedere alla gente che è possibile telefonare gratis grazie a una connessione ad alta velocità è, secondo me, una cosa che è interessante e che può far capire che tipo di proposta si vuole fare. A partire da questo tipo di ragionamento abbiamo cercato di mettere vicino a questa idea tutta una serie di altre idee. A Foligno e a Spoleto non esiste un gruppo d'acquisto. Il fatto di creare dei gas è uno strumento per far conoscere, per propagandare, per diffondere un certo modo di consumare, di spendere i soldi, un'idea del risparmio che è legata alla qualità da una parte altissima dei cibi che vai a comprare e dall'altra parte dal gusto, dal piacere di collaborare, di mettersi assieme e da tutto quello che ne può uscire come rapporti personali, feste, conoscenze nuove, eccetera, eccetera. Non è possibile pensare di organizzare in 448 un gruppo d'acquisto perché è una cosa complessa, ma è possibile che in questo banchetto arrivino una serie di prodotti della campagna di alta qualità e che questo banchetto sia un posto dove tu possa comprare un bel cespo di insalata fresca biologica ma anche assaggiare il formaggio di fossa, il salamino piccante fatto in casa, il pane fatto col forno a legna oppure con un... addirittura si parlava di avere un fornetto lì, impastare, fare la torta al testo che è il tipico pane umbro tradizionale e vendere panini buonissimi, ottimo vino e cose di questo genere. Da questa idea è nato sostanzialmente un cortocircuito e improvvisamente l'idea ha cambiato di segno e questo banchetto è diventata una specie di centrale operativa un grande banchetto, un bancone da mercato, un centro, una specie di micro casa del popolo all'aperto poi il problema è come farsi concedere al comune una superficie sufficiente ma lì l'idea è stata che potevano essere anche diverse entità che chiedevano ognuna i tre metri per tre che possono essere autorizzate di modo di creare un villaggio di banchetti, un mercatino insomma. Che cosa si può fare? Si può portare in questo spazio tutta una serie di cose che i militanti dei meetup di Beppe Grillo sanno fare e proporli alla popolazione. Cose serie, cose di gioco ad esempio noi a Casa del Diavolo abbiamo fatto un'esperienza una volta nella Casa del Popolo abbiamo presentato l'attività di Al-Qadash per cui c'era la lezione di danza del ventre, il massaggio, questo e quell'altro una cosa che è piaciuta moltissimo è il fatto che ci fosse Eleonora con il computer e la macchina fotografica che faceva fotografie alla gente e poi o gli deformava la faccia oppure c'era una fotografia con quattro persone ne toglievano una oppure aggiungere una foto in un'altra foto ad esempio Eleonora fece un servizio fantastico di lei un servizio fotografico fantastico di lei con Richard Gere che è il mio grande antagonista perché lei è innamorata di Richard Gere da prima che ci conoscessimo e praticamente tu puoi dire alle persone ti va di avere una foto con Richard Gere piuttosto che Brad Pitt o Angiolina Jolie o quello che vuoi dire si tratta appunto di tirar fuori dei giochi ci potrebbe essere qualcuno che sa fare gli origami qualcuno che sa fare i palloncini diciamo manipolati che diventano animali, oggetti eccetera eccetera attività utili ci potrebbe essere qualcuno che dà una consulenza per come risparmiare energia in casa e qui c'è tutto il discorso che ho già fatto sulla possibilità di diffondere una serie di strumenti reali di risparmio semplicissimi un pannello che va dietro i caloriferi isolante costa intorno ai 9 euro te lo tagliano su misura, te lo spediscono a casa e con quel semplice pannello tu puoi tagliare del 10% i costi del riscaldamento e qui ci sono tutti i prodotti di commercio etico che possono essere messi in pista e creare un'occasione non soltanto di spiegazione teorica ma anche di intervento pratico ma se ci mettiamo lì a pensare sono tantissime le idee che ci possono venire ci può essere qualcuno che fa una lezione di salsa in mezzo alla strada ci può essere qualcun altro che scrive poesie su ordinazione d'amore credo che la fantasia, la creatività di un gruppo di persone nel quale ognuno tira fuori qualcosa che sa fare veramente possano far venire fuori idee interessantissime e divertenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti